È doveroso comunque sentire anche l'opinione del candidato Pizzi, un risultato che sicuramente non può che farvi troppo piacere, però comunque il candidato Pizzi e la sua lista ovviamente vorranno dare il loro contributo nella prossima legislatura. Allora sì, daremo sicuramente il nostro contributo perché il nostro obiettivo è quello di rilanciare penne e comunque ho già fatto i miei complimenti al neosindaco Petrucci garantendogli tutto il nostro supporto perché l'importante è proprio come lo diceva far vincere penne e noi ce la metteremo tutta, quindi potrà contare su di noi per tutti i grandi progetti che serviranno sicuramente per rilanciare questa splendida città che negli ultimi anni ha subito tanti colpi, quindi sia per quanto riguarda la sanità, per quanto riguarda l'economia con il problema della Brioni, ma comunque ci siamo, quindi daremo il nostro supporto, non ci tireremo indietro perché l'importante è che penne possa rinascere e tornare allo splendore che merita. Ecco appunto riguardo i temi della Brioni, dell'ospedale, quali sono i vostri propositi, come vorrete dare il vostro contributo? Allora sicuramente adesso lasceremo chiaramente che la lista vincente in prima linea presenti i loro progetti e presenti tutto ciò che andrà fatto perché sicuramente hanno le idee chiare, i cittadini le hanno votate, le hanno sostenute e noi sicuramente daremo il nostro supporto per tutto ciò che potremo, quindi metteremo sicuramente in campo quelle che sono le nostre competenze, ma con un passo indietro, cioè nel senso che lasceremo loro agire in prima linea perché è giusto così. Ecco appunto, secondo il traghetto è posto, cosa secondo lei non è andato? In questa campagna elettorale forse al nostro svantaggio è stato il poco tempo che abbiamo avuto per farci conoscere perché 30 giorni sono pochi, specie per chi come me non è mai stata nell'ambito della politica e farmi conoscere in tutti gli aspetti, in tutte le contrade non è stato facile, quindi probabilmente io credo che sia stato solo questo perché abbiamo lavorato bene con onestà, con lealtà e con professionalità e probabilmente avremmo avuto bisogno di un pochino più di tempo ma non importa, noi siamo comunque contenti e orgogliosi del risultato ottenuto. Ecco allora un messaggio e magari di complimenti al nuovo sindaco Petrucci e magari un saluto ai cittadini pennesi, un vostro messaggio. Allora io ringrazio tutti i cittadini pennesi, sia quelli che ci hanno sostenuto e anche quelli che hanno preferito votare alle altre liste perché comunque ci hanno dato un'opportunità di rimetterci in gioco e anche di interrogarci su che cosa magari dovremmo migliorare. Al nuovo sindaco faccio tutto il mio in bocca al lupo nella speranza che veramente possa realizzare quanto promesso, noi ci contiamo davvero e siamo con lui per far vincere Penne, lì va Penne, lo dico anch'io.